Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuovissima vettura con me Mattao Studio Oggi andremo a parlare degli Avengers di Avengers 5 Che non vedrà più come protagonista forse Kang Ma questo lo dirà tutto dopo la sigla Infatti ragazzi purtroppo non ci sarà più, o purtroppo per fortuna non ci sarà più Kang all'interno dei progetti di Marvel Studios Hanno fatto un recast dell'attore Ma non è ancora sicuro che sarà di nuovo un protagonista per quanto riguarda i progetti Marvel futuri Infatti potrebbe essere soltanto una comparsa nei prossimi film Ragazzi infatti Avengers 5 dovrebbe avere come protagonista appunto Doctor Doom E non si sa ancora come andrà a finire Ma sarà appunto lui il cattivo che appunto avrà in pugno tutto E questo cattivo dovrebbe essere interpretato da Robert Downey Jr. Che appunto interpreta il Dottor Destino Ragazzi non si sa per niente cosa potrebbe andarci a riservare questa nuova avventura dei Marvel Studios In Avengers 5 Che appunto è stato dovuto fare appunto di nuovo una sceneggiatura per quanto riguarda il film Ma io sono molto fiero e fiducioso per questo film Ovviamente anche perché è un film degli Avengers E finora tutti i film sugli Avengers sono stati fantastici e belli Ragazzi ovviamente come vi ho già detto nel video dei Fantastici 4 Sarà un film appunto che sarà uno dei capitoli subito dopo successivi All'uscita al cinema nelle sale dei Fantastici 4 Ma voi che ne pensate? Sarà un bel film compreso i Fantastici 4 Che saranno appunto diciamo anche loro staccati dal multiverso Dovrebbero essere Oppure che saranno tutte e due film diciamo come ultimamente sta facendo la Marvel Tralasciando Deadpool 3 Detto questo ragazzi io con queste domande vi posso lasciare E ci penserà il Doctor Doom al destino futuro Noi ci possiamo salutare Vedremo una prossima avventura in un prossimo video E da Vatel Studio è tutto E niente Bye bye guys Bye guys